Riprendendo le parole del collega, arriviamo quel famoso anno dopo. La prima spara che mi viene in mente è quella dell'annata 1996-1997, magari non per motivi di campo, ma per motivi personali. Infatti ricordo bene che questo fu il primo album delle figurine che da piccolino completai, mi ricordo il quadro giallo, mi dà dei bei ricordi di infanzia. Soprattutto fu anche la prima spara che mio padre mi portò a vedere allo stadio e quindi sì, nonostante l'annata non certo felice, insomma personalmente questa è la spara, la figurina della spara che più mi ha avuto dei bei ricordi.